I want to be a slave, I want to be a master, I want to make your heartbeat run like roller coasters, I want to be a good boy, I want to be a gangster, cause you could be the beauty and no, it could be the monster, I love you since this morning, no, just for us that thing, I want to touch you all, it's so fun. Tony is waiting for everyone to take his training companion, Anita, he will try in every way, he would be able to overcome the 85, but of course it's a hard time, but he doesn't move, he tries to go in the same time, let's see if he can do something, for sure, for sure! Terno! Vediamo che ha presi agli altri 2,85, cerca di stargli dietro, vediamo se ha la staccata, riesce a fare qualcosina, uno, è quasi! e c'è il sole non si vede vediamo alla staccata niente sono in fila ecco toni che sta dietro agli e 285 vediamo se a questa staccata si avvicina alle staccate si avvicina purtroppo ovviamente c'è troppa differenza di motore 50 contro 85 impensabile ecco la staccata che si avvicina ancora un po fa elastico dai vabbè differenza di motore vediamo questa staccata ovviamente c'è l'effetto elastico alle staccate si avvicina nel rettilineo ovviamente si allontana stiamo parlando di 285 con un 50 un po' un po' un po' un po' un po' non è che se vuoi sentire e poi voglio lasciare e poi voglio lasciare perché mi sono la mia e poi voglio lasciare e poi voglio lasciare We're searching for redemption and I are killer We're searching for redemption, my motherfucking monster We're searching for redemption and I are bad guy We're searching for redemption and I are donker We're searching for redemption and I are free thought We're searching for redemption, my motherfucking monster We're searching for redemption Forse prende pure a quello con l'85 di nuovo, vediamo se riesce a prendere il ragazzo con l'85 Forse lo prende, vediamo se ci riesce Il ragazzo con l'85 è alla curva, lui è alla staccata Vediamo se lo prende a questa staccata Si avvicina Tony e lo prende alla staccata Grazie per la visione Grazie per la visione